Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità via dei fori imperiali nei festivi e isola pedonale. Sia nella domenica di Pasqua che nel lunedì di Pasquetta dunque deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte deviazione per la linea NMB, le notti interessate sono quelle di domani e di domenica. E a proposito per le giornate di Pasqua e Pasquetta, normale servizio festivo sulla rete Capitolina del Trasporto Pubblico, tutti i dettagli su romamobilita.it